Forse non sai cos'è l'affiliate marketing? L'affiliate marketing è un sistema di marketing digitale che permette alle persone di guadagnare da casa e alle aziende di aumentare le vendite dei propri prodotti. Oggi esistono siti che mettono in contatto le aziende che vogliono vendere e le persone che vogliono guadagnare vendendo quei prodotti senza doverli acquistare. Questi siti mettono a disposizione tutti gli strumenti gratuitamente, banner, link o pagine di vendita. In questo modo la persona che avrà deciso di vendere un tipo di prodotto non dovrà fare altro che pubblicizzarlo, gli acquirenti passeranno dal link che gli hai inviato, il sistema in automatico registra la vendita e tu guadagni una provvigione. Guadagni da casa tua lavorando con il PC e senza avere rischi di impresa. Tutto dipende dalla tua abilità e dal tuo impegno. Se il video ti è piaciuto guarda la pagina invio, condividi ed iscriviti.